E' imbarazzante pensare che una persona in casa propria durante un'aggressione non possa difendersi. 4 anni e 11 mesi di carcere più un risarcimento al ladro di 24.500 euro. La sentenza con il quale il Tribunale di Padova ha condannato Walter Onichini per aver sparato e ferito un ladro fuori dalla sua viletta di legnaro non poteva certo passare inosservata. E' una sentenza che genera polemiche e accende discussioni anche a livello nazionale. Lo chiami dibattito? Io dico che siamo davanti a situazioni imbarazzanti. Non do colpe alla magistratura ma le do al Parlamento. Perché il Parlamento potrebbe riunirsi anche in queste ore a costi zero, potrebbe inasprire le pene, darci la certezza della pena, introdurre la legittima difesa e dar modo alle forze di polizia di poter esercitare le loro funzioni e magari ogni tanto manettare, usare il manganello se serve e non girare con il karateo. Ecco tutte queste cose si possono fare a costi zero.